Ben ritrovati e ben ritrovati. Allora, partiamo dal Tiago Jalò, perché il neoacquisto bianconero questa mattina ha svolto una parte di allenamento con la squadra. Mi dicono i ben informati che le condizioni siano più che buone, ovviamente da contestualizzare al fatto che non giochi una gara ufficiale da quasi un anno, perché l'ultima è datata lo scorso marzo, in una sfida tra Lille e Lens, se non sbaglio. Quindi, per quanto riguarda l'eventuale convocazione con l'Empoli, deciderà Allegri, in sinergia con lo staff, non c'è fretta, bisogna effettuare tutti gli step in maniera graduale, ma già il fatto che Tiago Jalò si sia oggi parzialmente allenato in gruppo e sintomatico di come questo ragazzo stia bene al punto di vista clinico, ora è tutto un discorso legato alla riattualizzazione, ci vorrà un po' di tempo, ma si può fare con estrema calma. La Juve ha deciso di prendere questo ragazzo specialmente in prospettiva, specialmente per disegnare le erede di Alexandro, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza, quindi i titolari li conosciamo, al momento sono Gatti, Bremer e Danilo, poi ci sono delle alternative che stanno facendo abbastanza bene, tra cui Daniele Rugani. Piago avrà modo di sfruttare questa seconda parte di stagione per ambientarsi bene alla Juve, per conoscere questo mondo, per consolidare la cultura con questo paese, che lui ha già conosciuto, seppur per poco tempo, con la primavera del Milan, e poi per ugliarsi proprio nei meccanismi di una difesa 3 al momento, perché non cambieremo da questo punto di vista, se no ne facciamo un po' stesso, vediamo la Juve molte volte anche diventare a 4, eccetera, 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 però la costruzione è a 3 e penso che Tiago Jalò possa giocare principalmente come braccetto di sinistra. Lo so che detestate questa parola, braccetto effettivamente non è il massimo, però avete capito a cosa faccia riferimento. Può giocare tranquillamente anche a destra, perché è piede destro, come vi ho raccontato nel mio video che ho pubblicato qualche giorno fa, Elmin De Fazio, giornalista dell'equipe, Tiago Jalò ha giocato tantissimo anche a una difesa 4, centro-destra, centro-sinistra, può fare il terzino destro, lo ha fatto persino a sinistra, quindi è veramente un jolly arretrato, al quale è stato fatto un contratto molto intelligente, perché come ben sapete Tiago Jalò si è unito alla Juventus fino al 30 giugno 2026, ma la Juve ha l'opzione per rinnovargli questo contratto di altri due anni, quindi la scadenza se così fosse diventerebbe 30 giugno 2028 e implicherebbe il fatto che Tiago Jalò abbia convinto nel frattempo e che la sua quotazione del cartellino sia lievitata. Quindi io la trovo estremamente un'operazione molto molto intelligente e auspio che questo ragazzo zitto zitto possa poi consolidarsi all'interno del progetto possa diventare una piacevole sorpresa. Chi segue la Ligue 1 non lo giudica Tiago Jalò come un'eventuale sorpresa, è già una certezza, chiaro che l'incognita è quella dell'infortunio, perché quando ti fai così male ci sono sempre un po' di dubbi, ma clinicamente è a posto e, come vi ho detto, questa mattina ha già fatto qualcosina in gruppo. A parte invece sia Adrienne Rabiot che Federico Chiesa, Adrienne come ben sapete non ci sarà con l'Empoli, nessuna speranza da quello che mi risulta, ma proprio perché la concentrazione è rivolta alla sfida di San Siro. E il polpaccio, i tre muscoli e il polpaccio, bisogna trattarli come Dio comanda, non bisogna incappare in brutte sorprese, non bisogna sovraccaricare, non bisogna rischiare e quindi per cercare di arrivare con una discreta serenità in vista di San Siro, Rabiot no, giocherà la partita con l'Empoli. Li verrà risparmiata, la seconda di fila perché non c'era anche nella trasferta di Lecce, mentre Chiesa, vediamo, oggi si è allenato a parte, restano altri tre allenamenti buoni per capire concretamente se possa andare in panchina con gli azzurri, anche da questo punto di vista non si rischia, ma qui a differenza del centrocampo, c'è un po' più di tranquillità perché c'è un Kenan Ildiz che sicuramente partirà dal primo minuto con Dujamlaovic, quindi Chiesa può recuperare anche lui in vista di San Siro con calma e chiaro che averlo in panchina con l'Empoli, magari concedergli un segmento di gara, sarebbe importante, sarebbe importante perché la sfida di San Siro, che non sarà decisiva perché poi mancheranno tante altre partite, sarà sicuramente importante. Poi vediamo come ci arriveranno le squadre, la Juve deve fare il suo con l'Empoli, non bisogna andare troppo in là con la fantasia, cioè è chiaro che si avvicina il derby d'Italia e il tifoso mette il suo focus su quel big match, quindi lo vede sempre più vicino, ma l'Empoli è una squadra che va, come dicevo questa mattina, profondamente rispettata perché A ha cambiato allenatore, B cambiando allenatore ha cambiato alcuni dettami tattici passando la difesa a tre e ha trovato un successo nettissimo nell'ultimo turno di campionato. L'Empoli è una squadra che poi ha anche palleggio, Zurkowski capocannoniere con due partite, ha fatto se non sbaglio quattro gol contro i tre di Caputo, ma li ha fatti in due giornate perché Zurkowski è appena rientrato ad Empoli e credo che abbia fatto due match, quattro gol, una tripletta sontuosa all'ultima e un assist. Quindi ci sono dei segnali che devono portare a dire, raga non sottovalutiamo questo match, non sottovalutiamo assolutamente questo match. Quindi per un Thiago Jalò che sta in buone condizioni, rabbio che non ci sarà, è chiesa che deve essere valutata ancora giorno per giorno, chiude un pochettino il quadro della Juventus che si sta preparando alla continassa per affrontare gli uomini di Davide e Nicola. Per il resto c'è questo countdown che deve portare nelle prossime giornate, Moise Ken a Terrico Madrid, credo più all'inizio della prossima settimana che nel corso di questa. È una storia ormai chiusa, nel senso che anche quello che ho riscontrato questa mattina, Moise non vede l'ora di andare a Madrid, si vede già con la maglia bianco-rossa, ha già in testa cosa deve fare con i Colcioneros e quindi da questo punto di vista ormai tenerlo sarebbe controproducente, ma non c'è questo rischio, nel senso che per la Juve, come mi racconta ormai da giorni, è un giocatore out da due settimane e lui al tempo stesso è convinto che l'Atletico Madrid sia la miglior scelta possibile per cercare di conquistare un posto agli europei. So che può essere vista, interpretata questa scelta con un ma, perché ora gli attaccanti titolari a Terrico Madrid sono due che stanno facendo cose devastanti, Alvarito Morata ha 19 gol in stagione e Griezmann, che è campione incredibile a livello qualitativo, però poi dietro te la giochi, te la giochi, c'è la Liga, c'è la Coppa del Re, c'è la Champions, c'è la doppia sfida con l'Inter, lo so già dove volete arrivare, malpensanti, so già dove volete arrivare, magari, dicono i tifosi gioventini, Alvaro e Molte ci dovessero regalare una doppia grande serata in Champions, a me onestamente poi queste cose non interessano, ognuno deve guardare al proprio orticello. Chiudo, perché ve l'avevo promesso questa mattina, con un commento su questo arbitro X, perché non ha identità, intervistato da Aliene, che avrebbe fatto intendere che il sistema non funzioni, posso dirvi una cosa? Poi, può essere sempre tutto, ma così è troppo semplice, così è troppo semplice andare alle Iene, camuffarsi la voce, non farsi vedere, io non sono un pro, non sono un sostenitore, onestamente, di questi contenuti, che non definirei nemmeno giornalistici, sono contenuti che mi lasciano un po' così, poi è sempre facile gettare il sasso, però nascondi la mano, non c'è chiarezza, io onestamente il servizio l'ho visto, ma mi ha lasciato molto perplesso, non discuto che magari ci possano essere delle cose che non funzionino, ma vanno dimostrate, vanno portate le prove, altrimenti stiamo parlando del nulla, davvero mi schietta niente.